In casa ancora oggetti di giunco? Sì, conservo ancora fiaschi ricoperti di alte palustre che servono a tenere presti l'acqua e il vino contenuti all'interno e anche alcune sport che servivano per fare la spesa o trasportare altre cose. Ed era la comunità in seguito dei raccoglitori creativi. E' assorto un ecomuseo che è un progetto partecipativo che viene dal popolo, dalla gente. Non mi dice nient'altro eco? Quando c'è una casa chiusa...